Da oggi la liuteria classica cremonese è patrimonio dell'umanità. L'ok definitivo da parte del comitato intergovernativo competente a Parigi nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura è arrivato nella tarda serata di mercoledì. Si materializza per Cremona un sogno inseguito fin dal 2007 dalla giunta Corada e proseguito dalla giunta Perri, sostenuto dagli sforzi dell'intera città e dall'appoggio della regione Lombardia. La candidatura aveva già avuto la scorsa settimana la raccomandazione positiva da parte di Cecil Duvel, capo della sezione del patrimonio immateriale. L'iscrizione al patrimonio dell'UNESCO della liuteria di Cremona spiega la Duvel conferirà ancora più visibilità a questa disciplina ed era forse voglia all'Italia di dedicare più mezzi alla tutela di questa pratica che si ritiene essere così importante per gli abitanti di Cremona. La candidatura aveva ricevuto inoltre pieno appoggio dal Consiglio regionale della Lombardia che aveva approvato all'unanimità una mozione bipartisan sottoscritta da Lega, PDL e PD. La provincia di Cremona ha chiesto alla regione che questo patrimonio abbia anche un riconoscimento istituzionale sostenuto con l'istituzione di un laboratorio per il restauro di strumenti antichi e che venga difeso dalle imitazioni. Tra le dieci eccellenze nazionali che l'anno scorso hanno presentato ufficialmente la loro candidatura. Dopo l'esclusione del Paglio di Siena solo due scelte dalla Commissione interministeriale sono entrate in nomination. L'Italia infatti aveva anche presentato ufficialmente a Parigi la candidatura della macchina di Santa Rosa di Viterbo per il prestigioso riconoscimento di bene del patrimonio immatoriale dell'umanità in base alla Convenzione Unesco del 2003. Ma la tradizione gliuteria cremonese ha avuto il sopravvento. L'UNESCO ha riconosciuto anche l'opera dei pupi siciliani, un tipo di teatro delle marionette, i cui protagonisti sono Carlo Magno e i suoi paladini.